A Civitanova Marche, lunedì 18 marzo, è andata in scena la terza premiazione della Call to Action, l'energia delle buone pratiche, promossa a livello nazionale da estera in collaborazione con il CONI e il CIP. Noi ci contraddistinguiamo da tempo per essere un'azienda che opera sul territorio e ha come obiettivo quello di restituire valore al territorio in cui operiamo, che non deve essere uno slogan ma deve poi concretizzarsi in azioni come questa iniziativa, sostegno economico alle associazioni che lavorano quotidianamente per la diffusione dei valori dello sport. L'obiettivo è dare lustro a quelle realtà che attraverso lo sport promuovono i valori della solidarietà e dell'inclusione sociale per abbattere qualsiasi barriera. Il fatto che nella nostra regione ogni anno siano aumentati i numeri di partecipanti, di società partecipanti a questo premio, la dice lunga sulla sensibilità che la regione Marche ha nell'aspetto sociale dello sport. Quest'anno abbiamo superato le 30 società e pertanto questo ha fatto scattare anche due riconoscimenti. Due premi, uno per il CSI di Ascoli Piceno, già promotore della psicomotricità nelle scuole dell'infanzia e di attività per i più piccoli nelle aree del sisma del 2016. E oggi, vincitore grazie allo sport portato nel carcere di Marino del Tronto. Cerchiamo di creare un ponte tra quello che è il detenuto che ha, tra virgolette, espiato la pena e poi magari il reinserimento in società, con un'attività sportiva fatta di eventi di confronto con realtà esterne di categorie. L'altro riconoscimento invece l'ha ottenuto l'associazione Il Tempio di Bellona di Fermo, che promuove tra i bimbi il kickboxing. Vengono introdotti ad una disciplina marziale che permette loro di crescere in maniera importante, ma vengono sempre affiancati da un'educatrice, da una pedagogista che promuovono la parte relativa alla costruzione del gruppo, dell'inclusione, lavorano molto sui valori. L'evento si è svolto all'Istituto Da Vinci. Grazie a chi ha voluto scegliere Civitanova per un momento bello come questo. Lo sport è veicolo di benessere, di crescita, di inclusione. L'amministrazione di Civitanova si impegna anche a valorizzare da tanto e ha anche tante realtà virtuose e inclusive sul territorio, che sono eccellenze da un punto di vista agonistico, ma sono anche eccellenze da un punto di vista valoriale. Tra gli ospiti illustri è anche l'ex pallavolista Andrea Zorzi, che ha raccontato l'importanza dello sport nella sua vita. Quello che io provo a fare in questo periodo è raccontare che anche la mia vita ha avuto un sacco di sconfitte, a volte difficili da superare, ma più che altro l'effetto che ha avuto lo sport nella mia vita nelle varie fasi d'età. Dal preside del Da Vinci un monito agli adulti, mai ignorare i segnali che arrivano dai giovani. Ascoltarli in quello che dicono esplicitamente, ma anche tra le righe, quello che non riescono a dire il più delle volte. Questa è la cosa prima, la principale, per poter poi essere ascoltati.